Tortino di orata e patate al forno In questa ricetta vi proponiamo un delizioso tortino di orata e patate al forno, facile e veloce da preparare, ideale per una cena invernale. Il sapore delicato dell'orata, unito al gusto deciso delle patate, vi conquisterà per l'ottima riuscita di questo piatto. Iniziate affettando la patata e l'orata. Prendete una teglia, ungetela d'olio extravergine di oliva e disponete uno strato di patate. Aggiungete sopra uno strato di orata, condite con un po' d'olio, sale e pepe. Coprite con un secondo strato di patate, condite con un po' d'olio, sale e pepe. Cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi centigradi per 25 a 30 minuti. Servite ben caldo. Ingredienti 1 patata 1 orata Olio extravergine di oliva Sale Pepe Preparazione Affetta la patata e l'orata Prendi una teglia e ungi la d'olio extravergine di oliva. Disponi uno strato di patate e sopra uno strato di orata. Condisci con un po' d'olio, sale e pepe. Copri con un secondo strato di patate. Condisci con un po' d'olio, sale e pepe. Cuoci in forno preriscaldato a 200 gradi centigradi per 25 a 30 minuti. Servi ben caldo.